Quando c'era una dimensione umana si poteva ragionare, era la dimensione della comunità. Col passare del tempo abbiamo, almeno noi, riscontrato un allontanamento da questa dimensione. E in questo arriva la nostra obiezione, l'obiezione di coscienza di dire, vabbè, allora rinuncio. Perché? Perché non è più una dimensione, secondo noi, corretta e umana, ma è una dimensione che ci allontana, allontana i cittadini dalle istituzioni, in mezzo c'è qualcosa di apparentemente oggettivo, che però significa anche de-responsabilizzare le scelte degli uni e degli altri. E a questo livello, in questa situazione, abbiamo pensato che non essendo dei ragazzini, avendo visto cambiare il mondo, forse a un certo punto uno deve anche dire no. E quindi questa ottava edizione, penso che sarà un'edizione forse anche per noi sorprendente, in parte anche difficile, perché quando lasci certi punti a cui ti eri abituato, ti trovi un po' come sballottato in mare aperto, ma respiri un bel aria, insomma. Speriamo di aver preso la strada giusta. Speriamo di aver preso la strada giusta.